Chiuso il palazzetto dello sport a Sala Consilina, nella giornata di ieri è arrivata l'ordinanza del sindaco Francesco Cavallone di carattere contingibile e urgente, con cui viene specificato come a seguito del sopralluogo all'interno della struttura sportiva da parte dei carabinieri della locale stazione e dei funzionari del distretto sanitario dell'Asla di Salerno di Sala Consilina, sono state rilevate criticità ed è stata richiesta documentazione amministrativa sulla sicurezza della struttura. Le verifiche sono state effettuate per la valutazione del rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e per la sicurezza sul lavoro. Per garantire quindi l'ingolumità pubblica, visto anche che l'edificio viene utilizzato per l'effettuazione di attività prevalentemente dedicate allo sport, il sindaco è stato invitato, come si legge nell'ordinanza, ad inibire l'utilizzo della struttura sia da parte dei dipendenti che delle società sportive, fino a presa visione della documentazione richiesta. Una decisione che ha fatto molto discutere anche per le difficoltà di poter usufruire di strutture sportive in tutto il territorio valdianese. Per quanto accaduto è intervenuta Elena Gallo, assessore allo sport del Comune di Sala Consilina, che affida al social network Facebook la sua dichiarazione. «Siamo consapevoli», scrive, «di quanto la momentanea chiusura del palazzetto stia creando disagio e amarezza, soprattutto tra i più giovani. Investiamo nello sport da sempre, sostenendole e promuovendolo, e in questo non temiamo smentita. Siamo una comunità fortunata, continua, per la presenza di diverse strutture sportive che consentono a tutti di dedicarsi a quello che è la linfa della nostra città. Purtroppo, però, possono sorgere problemi che vanno risolti con lo stesso impegno e la stessa dedizione che quotidianamente mettiamo in ciò che facciamo nel rispetto ognuno del suo ruolo. Stiamo lavorando già da ieri per risolvere nel più breve tempo possibile il tutto». Sulla vicenda interviene anche il gruppo consigliare Salesi, che evidenziando come la struttura sia stata riaperta al pubblico nell'ottobre del 2018, dopo l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e adeguamento, chiedono di avere copia del verbale di sopralluogo effettuato presso la struttura sportiva dai carabinieri e dai funzionari dell'ASL e di avere copia della documentazione relativa e recenti lavori realizzati sulla struttura e delle autorizzazioni necessarie per la riapertura dell'impianto sportivo.